In the morning I'll be fine, in the morning I'll be right, if I go all the way Ciao a tutti ragazzi, qui mi è Dana e oggi vi annuncio che è uscita la MoCreatureMod per la 1.4.5 ragazzi Quindi non perdiamo tempo e andiamo a vedere tutte le novità del caso Ok ragazzi, ho preso un nuovo mondo, giusto per non massacrare lo studio E vediamo subito le novità che aggiungono delle fantastiche armature ragazzi Io l'adoro già questa armatura, vedete, con la spada annessa, questa è la figa Questa qua l'ho fatta per... uuuuh, un fiamma anche, vediamo anche poco la colpe là E appunto vi ricordate gli scorpioni Ecco, questi qua, questi qua, uccidendoli Dovrebbero droppare le cose che ci servono per farci questa armatura che c'ho su Naturalmente sono molto rare, perché è un armatura strafiga, mi pare Iniziamo a vedere subito allora i mob Questo qua cos'è? Ci sono tanti Big golem Questo qua ragazzi è un nuovo mod, vedete che si assemblerà Raccogliendo I... diciamo... aia I... i blocchi da intorno, guardate che figata Guardate Si assembla Raccogliendo Guardate Guardate che figata E dopo di che dovrebbe attaccarsi Storicamente quando Guardate che figo Ah no, mi attacca Proviamo a distruggerlo, vediamo cosa succede Vedete che continua a rigenerarsi sempre Si rigenera, si rigenera, si rigenera, si rigenera, si rigenera Vediamo quando, penso Non riusciamo a distruggerlo completamente E' molto duro da distruggere E' proprio un boss oserei dire Non ci riusciamo a distruggerlo Vediamo Aia Cosa è che mi attacca? Vedete che è molto molto difficile Ok Distrutto Bene, questa qua è la prima novità diciamo Poi cosa c'abbiamo? Butterfly Oh le farfalline Bene Poi snail Cosa è sta cosa? Le lumache Le lumache Che figata Poi Triceti Ah no Cavallette Che figa Poi Oh blocco fire Androppate Farfly Duccele Ok Molto carine Dragonfly Le livellule Fly Cosa sono? Mosche L'odio B Api Siete anche i suoni che realistiche sono Poi Prendiamone un po' di più Facciamo così Vediamo cosa altro ci abbiamo Delfino Vabbè lo spawniamo qua ragazzi Giusto per Ok non è cambiato Flame Questa cosa Ah i I fantasmi Quelli Quelli di flame Quelli che ti avvelenano Si Ok Solita volpe Werewolf Qua è il lupo mannaro Ok la skin è più o meno quella Shark Mettemolo in patti Non si si attaccano Ok Shark più o meno uguale Wraith Cos'è il Wraith? Ah ok Fantasma normale Che mi attacca Ah anche chi mi attacca con l'armatura Prende fuoco Figata Ok Poi 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 abbiamo tanto cosa a vedere ragazzi Il Deer Big Cat E il werewolf Di è cos'è? Ah ok Il cerbiato Il cervo Ah ok Questo qua è il La pantera Questo qua Ah questo è il wolf qua Pigeone o l'attacca Ok Got e la capra Ok Si Jellyfish Cos'è? Ah le meduse Ok Pizzaggia su tutto ormai Ok Hellrat Ok Solito il ratto del nether Ratto Ratto normale Ray Scusate La manta Ok Scorpione Guarda che figo che è Cioè cosa c'è sopra? Scopiè cosa c'è sopra? Vabbè Crocodillo Il crocodillo Mi è attaccato a questo? Sì Questo qua mi è attaccato E anche questo Muori Ok Il crocodillo Solito Ok Ecco mi ha preso Sono uscito Ragazzi la vita mi sta rigenerando Grazie a questo amuleti qua Non so bene quale Perché devo ancora capire Cosa stavano sinceramente Sono troppi Bene Abbiamo il kitty Gattina Questo qua Il pesce Questo qua E lo strutturato Che vengono L'ha fatto lo strutturato Quella piccola naturalmente Bene Poi 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 Aggiunge anche i nuovi cibi Tipo questo qua L'hamburger di ratto E' un migna quanto da Beh da 3 anche Non male Ho tutte le cosce E di questi qua Sono il Aghian Il tetanate Questo qua mi attacca giustamente Dopo un momento Ci sono i cavalli Perché non avevo preso Tutti gli spawn Mi sembra Mi era fermato Il kip ogre Fire ogre Dove c'è l'ogre Lors mod Vediamo cos'è Poi Cos'altro c'è Cavallo Cataruga Topo I piccolini belli Bird Cataruga Snake Bunny Ok dopo qua Ci torna Quei normali Ah questo Qua cazzo Fa il culo Ah Adesso siete assumendo Una mega slime Ah davvero Lo facevo anche prima Di la vita Cazzo quante Cazzo quante Cazzo quante Ok Bene Poi Questa cosa Che era Cavallo Normal Ok Ah Turchino Che fio Che è Il tacchino Poi normale Cornacchia Ok Bene ragazzi Direi che noi Da principali La fate vedere Questi amuletti qua C'è Ha aggiunto talmente Tante cose A questo mob Che davvero Non riesco Per capire Cosa serve Siamo sicuramente Uno di questi Siamo sicuramente Famili generale Di continuo Cosa è qualcosa Ah ok Fanno qualcosa Stiamo volete No Facciamo soltanto Da tenere Penso Ok Torniamo in studio Perché davvero D'estrano Siamo sicuri D'estrano Siamo sicuri